Mi trovo accanto al CX-12D, il più piccolo modello che offriamo nella nostra gamma, che ha delle caratteristiche peculiari di cui voglio parlarvi. Per esempio, sottocarro estensibile, che quando è tutto stretto ha una larghezza di 790 mm, quindi all'interno delle dimensioni tipiche di una porta, che è normalmente 800 mm, e permette quindi tranquillamente di poter entrare all'interno di uno scantinato per attività a fare all'interno. Anche qui potete vedere in questo snodo che il rollbar può essere ribaltato per permettere il passaggio all'interno di spazi molto bassi. Chiaramente l'operatività viene poi garantita quando il rollbar viene riposizionato in posizione verticale. Un'altra caratteristica molto importante progettata su questo modello è l'accessibilità. L'accessibilità è molto semplice, garantita da questo bracciolo che si apre in questo modo e si può notare anche visibilmente lo spazio che c'è per l'operatore e per i piedi. Un'altra caratteristica che è comune a tutta la gamma è la possibilità di ribaltare il rollbar e poter avere una estrema accessibilità per tutta l'attività di manutenzione. Vi faccio vedere, è un'operazione molto semplice. Aperto, gancio di sicurezza. Qui si ha accessibilità al vano motore sia frontalmente, adesso mi sposto dietro. Sia posteriormente. Una macchina da 1.2 tonnellate con un'accessibilità estrema. Anche qui c'è la soluzione del serbatorio del gasolio sullo sportello, sulla zavorra posteriore, che permette quindi di avere tanto spazio libero per poter effettuare la manutenzione.